Ben ritrovati oggi in primo piano un'analisi di come è cambiata la camorra in Campania. In un libro vengono ricostruiti, se vogliamo, gli anni più bui della guerra tra i clan. Libro scritto da Antonio Mattone, scrittore e portavoce della comunità di Sant'Egidio di Napoli. Benvenuto a Dottor Channel, grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a tutti. Il suo libro La vendetta del boss, l'omicidio di Giuseppe Salvi, è la storia del vice direttore del carcere di Poggio Reale, ucciso per ordine di Raffaele Cutolo. Partiamo proprio da questa storia, perché il boss ordinò quel delitto? Sì, ho deciso di scrivere questo libro dopo un incontro, un incontro con il figlio di Giuseppe Salvia che un giorno mi telefonò e mi disse Io so che voi della comunità di Sant'Egidio fate il pranzo di Natale a Poggio Reale, vorrei partecipare ma in incognita. Allora io conoscevo un po' questa storia molto da lontano, però mi incuriosì il fatto di perché un figlio volesse andare nel luogo da dove era partito l'ordine di uccidere il suo genitore. Siamo diventati amici e poi la stessa famiglia mi chiese di scrivere questo libro. Perché Cutolo uccise Salvia? Per un motivo molto semplice. Cutolo, che ha vissuto ben 56 anni nelle carceri italiane, proprio a Poggio Reale costruì il suo potere, la sua fama, il suo impero del male. Però si trovò di fronte a un funzionario solerte, integerrimo, che invece voleva fare il suo dovere, ed era Giuseppe Salvia, che gli impediva di esercitare questo potere. E si vennero a trovare in una serie di situazioni di contrasto. La prima, quella magari più famosa, fu quella del famoso schiaffo che il boss dette a Salvia, perché nel momento in cui gli chiese il perché dovesse essere perquisito ogni volta che entrava e usciva dalla sua cella, la risposta del funzionario fu perché è il regolamento. E a cui Cutolo rispose con uno schiaffo. Lui pensava che con questo schiaffo potesse avere in pugno Salvia, uno schiaffo dato nel padiglione dove c'erano i camorristi, sia della nuova camorra organizzata, sia della nuova famiglia, ma anche terroristi. Quindi uno schiaffo dato davanti a tutti voleva dire che qui adesso comando io, insomma devi sottostare a quello che io dico. Ma le cose andarono in modo diverso. Salvia continuò a fare il suo dovere e dopo una serie di altri episodi alla fine giunse alla scellerata decisione di ucciderlo. Ecco, erano gli anni mattoni in cui Raffaele Cutolo era boss incontrastato anche dietro le sbarre e Salvia, appunto funzionario integerrimo, probabilmente fu lasciato solo in questa vicenda. Sì, fu lasciato solo dal direttore dell'epoca, dai suoi colleghi, gestiva questo padiglione di massima sicurezza e una gestione che dall'inizio doveva essere a rotazione, però poiché nessuno voleva assumersi questa responsabilità fu lasciato lui a dover avere a che fare con Cutolo e con questi boss. Una solitudine che poi è stata riscontrata anche durante il funerale, perché non venne il Ministro della Giustizia, non venne il Sindaco di Napoli, le segui non furono ufficiate dal Cardinale Ursi e la cosa più grave, il Ministero non si costituì parte civile dopo l'omicidio. Quindi una solitudine davvero assordante. Un delitto che fece scalpore e destò chiaramente grande preoccupazione nell'opinione pubblica, ma qual è sul giudizio il messaggio che arriva da questa vicenda così drammatica? Sì, sicuramente fece scalpore e secondo me all'epoca ci furono una serie di connivenze anche con lo Stato, per un motivo molto semplice. Dopo l'omicidio di Salvia subito si venne a sapere che Cutolo era stato il mandante, gli inquirenti dell'epoca così mi hanno detto. Ma 15 giorni dopo l'omicidio Salvia venne rapito Ciro Cirillo dalle Brigate Rosse. Lo Stato immediatamente andò tramite i servizi segreti a parlare con Cutolo, ma non per indagare su Salvia, ma per chiedere il favore di far liberare Ciro Cirillo. Quindi ci furono delle interconnessioni tra servizi segreti, camorra, era un periodo davvero complicato e questo è proprio l'esempio più calzante della solitudine di Salvia. Quello che resta è l'esempio di un grande funzionario, di un grande uomo dello Stato che pur sapendo di correre rischi non si tirò indietro, non voltò la faccia dall'altra parte e continuò a fare il suo dovere. In fondo voleva fare appunto soltanto il suo dovere dal libro, qual è il profilo che viene fuori di questo funzionario? Allora, lui era un uomo semplice ma non banale, un uomo che credeva molto nel recupero dei detenuti, quando poteva fare qualche piccolo favore lo faceva, sempre rispettando i regolamenti, ed era il punto di riferimento del carcere di Boggio Reale. Di fatto era lui il direttore, era diventato lui, per cui sia i detenuti ma anche il personale, gli agenti si rivolgevano a lui come un punto di riferimento. Nel libro racconto tanti episodi di questa sua umanità, ne voglio citare uno. Un giorno il suo amico del cuore, l'avvocato Vignola, lo incontra all'ospedale Cardarelli con una faccia rabbuiata e uno scatolo di cioccolatini in mano. L'amico gli chiese come mai sta qua, lui non voleva rispondere, Salvi era uno molto riservato, ma l'insistenza dell'amico gli fece svelare la vera motivazione per cui stava in ospedale. Era andato a trovare il figlio di un detenuto che aveva un tumore ed era rimasto solo perché non si sapeva la madre dove fosse finita. E quindi fece questo gesto di grande umanità davvero inusuale direi per un direttore di carcere. Contro di lui Raffaele Cutolo, Mattone lei è stata l'ultima persona, probabilmente l'unica persona a parlare con Raffaele Cutolo negli ultimi anni. Le chiedo che esperienza è stata, incontrare un personaggio che era boss incontrastato, capo clan sanguinario. Devo dire che io mai nella mia vita avrei immaginato di poter incontrare Raffaele Cutolo. Mi ho sempre sentito parlare, l'ho visto anche con un certo terrore, una figura inquietante. Mi sono ritrovato di fronte a un vecchio, una persona invecchiata, non l'avrei riconosciuto se non avessi saputo che era lui. Barba incolta, capelli lunghi, non aveva più quegli occhialini. Insomma, una persona completamente trasfigurata, diversa. Abbiamo parlato di tante cose, innanzitutto della condizione in cui viveva la carcerazione, lui si è lamentato tantissimo. E poi alla fine gli ho chiesto, gli ho fatto la domanda che era il motivo per cui stavo là, se avesse ucciso lui, fatto uccidere lui Giuseppe Salvia. E devo dire che con mia molta meraviglia, lui mi ha risposto senza esitazioni con queste parole. Sì, l'ho fatto io, l'omicidio Salvia. Come mi ha detto un importante magistrato, sono stato l'unica persona in Italia che è stata capace di far confessare un delitto a Cutolo. Perché me l'abbia detto, non so, probabilmente un po' lui mi ha visto anche come volontario vicino ai detenuti. O forse anche aveva un peso dentro, perché Salvia non faceva parte del mondo criminale. Probabilmente è un omicidio che forse gli ha pesato dentro di sé. Era sicuramente un Cutolo diverso rispetto a 40 anni fa, quando comandava in contrastato anche dietro le sbarre. Qual era il sistema che aveva creato, a suo giudizio, che emerge anche dal libro? Sì, lui aveva avuto l'intuizione di radunare attorno a sé tutta una massa marginale di piccoli delinquenti, balordi, spacciatori, tossicodipendenti, disoccupati e gli aveva dato un po' una bandiera, gli aveva dato potere, soldi, un ideale in qualche modo e importanza. Questo emerge anche dall'incontro che ho avuto con Mario Incarnato, che è l'autore dell'omicidio, un contadino che poi diventa killer perché in carcere conosce appunto degli esponenti della malavita e quindi dava importanza a questa gente. Per esempio nel carcere, dove è nato questo potere cutoliano, lui per esempio gestiva tutti gli alimenti che mandavano i familiari, gli faceva andare nella sua cella e poi li distribuiva. aveva questo grande carisma, riusciva in qualche modo proprio all'interno del carcere a governare questa massa di gente, piccoli e grandi delinquenti che lo circondavano. Erano sicuramente mattone gli anni bui della guerra di Camorra in Campania, omicidi, vendette, senza fine. In fondo questa emergenza la nostra regione l'aveva ancora, ma in maniera probabilmente diversa. Sì, sicuramente oggi non ci sono i quasi 300 morti all'anno che per esempio ci furono nel 1982. La nuova Camorra organizzata è stata sconfitta, però non possiamo dire che è stata sconfitta la Camorra, assolutamente. Una Camorra più polverizzata, una Camorra anche finanziaria adesso, che utilizza i grandi capitali, una Camorra anche dove è ridotta l'età dei capi, quindi anche incontrollabile, più impazzita, anche con l'esigenza di rendersi più visibile sui social, nelle stese, mentre invece prima il boss tutti sapevano chi era e lo rispettavano e basta. Però comunque è un grande male che purtroppo continua a insanguinare la nostra terra. Per chiudere mattone questa nostra intervista, tornando al libro La vendetta del boss, l'omicidio di Giuseppe Salvia, qual è il messaggio che ha voluto soprattutto inviare ai più giovani? Sì, un messaggio importante. Io soprattutto in questi mesi sto girando molto nelle scuole dove incontro i giovani, perché bisogna valorizzare figure come Giuseppe Salvia, che appunto vivendo in un momento difficile della città dove si intrecciarono Camorra, terrorismo, terremoto, vicende del topo terremoto. Lui comunque cercò di mantenere la legalità come il suo baluardo, come il suo ideale e in un tempo come questo è davvero importante, secondo me, far emergere queste persone, queste figure, ce n'è tanto bisogno, non solo fuori le carcere, ma anche all'interno delle carceri, perché c'è un clima di grande autoreferenzialità, per cui la società esterna, il volontariato non sempre viene visto bene. Invece Salvia era uno che accoglieva tutti, parlava con tutti, ascoltava tutti. Quindi direi un grande esempio sia per la società carceraria che per quella esterna, per i giovani. Certo, il suo libro sicuramente è una testimonianza significativa rispetto soprattutto agli anni bui della guerra di Camorra. Grazie dunque ad Antonio Mattone, scrittore e portavoce della comunità di Sant'Egidio di Napoli, in bocca al lupo per questo suo libro, speriamo che possa avere chiaramente un significativo riscontro di pubblico. Grazie, grazie a lei direttore. Bene, abbiamo concluso, il regio per noi Aldo Fenizia, grazie ovviamente a voi che ci avete seguito, buon proseguimento con 8 Channel, arrivederci.